Nella mia ricerca, e quello che vi voglio lasciare anche oggi, c'è, e di questo parlerò soprattutto la prossima volta, che è praticamente sogno o sondesto, come si diventa padrone dei propri io. Quando dico io, chi dico? Che il nostro corpo ogni sette anni cambia totalmente, le cellule, le cose, quindi invece di dire di che segno sei dovrei dire quanti cadavere hai costruito. Che logica c'è nel pensare che cambiando tutto, quando finisce l'ultimo vestitino non debba continuare questa cosa che ha cambiato tutto? Allora la domanda è, ricomincio da io, quanti anni ho? Il mio corpo ha 81 anni, ma io da molti anni ne ho 17 e vado per i 18. Non riesco a diventare maggiorenne. E chi è maggiorenne tipo lei non mi vuol dire quali sono i vantaggi di diventare maggiorenne. Non lo so perché non li... no, non parlare male di tuo marito. Come si fa a sapere, e ognuno di voi, se potessimo chiedere, ha molti meno anni di quando, il novantenne che scappa con la quarantenne, in realtà è il ragazzino di 18 anni che dice vado con una più vecchia. E statisticamente, io sono arrivato a questa conclusione, ma l'ho trovato poi certificata, noi ci fermiamo a un'età che va dai 15 ai 18 anni. Le donne di solito arrivano a dire me ne sento 7, 9 cose. Come si fa a sapere quanti anni ho? Io ogni primo dell'anno, ma uno lo può fare ogni... Mi metto davanti ad uno specchio. Lo specchio rimanda una mia maschera, persona, maschera, in più a due dimensioni e ribaltata. Ma sono io e mi chiedo mentalmente quanti anni ho? E mi risponde. Da molti anni, non so se è un disgraziato o un amico, mi dice 17 vai per i 18. Per cui so, andiamo avanti. Ma è questo... Che mi consente di mantenere questa incoscienza, cercando di passare, fai agli altri quello che vorrei. Caspita! È una legge di sopravvivenza personale, se tutto è uno. Anche perché, attenzione, nessuno di noi, né di voi, mai è riuscito a vivere due secondi dopo. Non c'è mai arrivato nessuno. Perché è qui e ora, ed è un istante per volta. Le immagini che noi vediamo, in televisione, sono una dopo l'altra. Questo cosa vuol dire? La fisica quantistica, oggi lo certifica, ma l'ho cercato nei miei testi di fisica, erano 2200 pagine, tre volumi, non c'era questa roba qua, non c'era ancora. Allora, se io ho un istante, e questo istante può essere l'ultimo, ma è anche l'inizio del resto dei miei istanti, di che cosa mi dovrò occupare io? Della guerra, dei figli, dei matrimoni? Se non divento padrone di questo istante, ne parlo la prossima volta, che adesso... Certo. Il qui ed ora. No, ma aspetta, il qui ed ora. Come faccio a entrare in un mondo duale, quando io ho soltanto un istante? Secondo le regole che noi abbiamo applicato col computer. Zero, uno. Mi piace, non mi piace. Mi serve, non mi serve. Se io convinco il mio inconscio, ci vuole qualche giorno, con questo discriminante, che è molto rapida, in qualunque operazione succeda, magari non mi piace, ma mi serve. Divento padrone di me stesso. Provare per credere. Grazie. Grazie. Grazie.